Aspetta qualche secondo, lascialo riposare. Appena riprende conoscenza, raddoppia il voltaggio. Riccardo! Porcuta! Che cosa mi hanno fatto? La capacità di decodificare le sequenze numeriche è stata impiantata con successo nel soggetto. Allora qual è il problema? La sua risposta agli ordini è stata... sporadica. Imprevedibile. Oppone un'incredibile resistenza. Perché? È un uomo insolito. Atipico. Ha una forza di volontà molto rara. Con le altre cavie abbiamo avuto risultati migliori. Se non esegue gli ordini codificati nei numeri, allora non mi serve a nulla. Riportatelo in cella. Amarcire. Il dolore! Oddio! Che dolore! Raggiungere il bersaglio Oswald! Compromesso! A Porcuta siamo tutti fratelli. Raznoff, puoi fidarti dell'americano? Sicurissimo. Non è poi così diverso da noi. Puoi fidarti di Mason come ti fidi di me. Traditi, dimenticati, abbandonati. Meson, devi sopravvivere. Dobbiamo fuggire! Io e te siamo fratelli, Meson. Siamo uguali. Mi hanno detto che lei è il nostro uomo migliore d'assoluto. I uomo-listi rappresentano una grossa minaccia. Il nostro stile di vita è in pericolo. Dragovic. Quando lo uccide? Portavoi uproveri. Bene. Ora andiamoci da qui. Non ancora. Andiamo a prendere Dragovic. Non esce nessuno. Contento, Meson? E tu ancora? Devo vedere il cadavere. Quante volte devo ripeterlo? Steiner era sull'isola rinascita. Noi dovevamo ucciderlo. Noi? Vittor Raznoff? Volevamo la stessa cosa. La stessa. Ma che cazzo fa? Il dolore è insopportabile, vero? Io e te siamo fratelli, Meson. Siamo uguali. Dragovic, Steiner, Kravchenko. Devo morire tutti. Dragovic ti ha condizionato. Ma anche Raznoff aveva i suoi piani. Raznoff? Raznoff? Come sei fuggito da Borghuta? Non pensavo di rivederti vivo. Non è mai stato in via. Il vero disertore con il dossier Splanova 6 è morto nell'attacco al McV. Non è mai stato nei tunnel. La tempenza di pareti. Kravchenko è qui. Di qua. Non possiamo lasciarcelo scappare. Non è mai stato sull'isola Rinascita. Il mio nome è Victor Raznoff. Meson! Il mio nome è Victor Raznoff. Io otterrò la mia vendetta. Meson, no! L'ottavo passo, Raznoff! La libertà è te, Meson! Non per me! Victor Raznoff è morto da cinque anni mentre tentava di fuggire da Vorkhuta. Per tutto questo tempo hai creduto di averlo accanto, ma lo hai solo immaginato. Mi fidavo di lui. Per questo ha funzionato. È stato il loro attentato all'MK Ultra. Dragovich ti ha programmato per uccidere Kennedy, ma Raznoff ti ha fermato. Voleva vendicarsi di Dragovich. Dragovich, Kravchenko, Stalter. Tre nuove vittime. Ci sono dei buchi nella tua memoria. Periodi in cui sparivi e non sapevamo dov'eri. Ma ora che abbiamo annullato il lavaggio del cervello, i ricordi torneranno ad affiorare. Dobbiamo andarcene. L'attacco con la nuova 6 è imminente. Centine di agito.